Davanti alla Commissione del Dipartimento di Politiche dello Sviluppo, guidato dall'ex Ministro per la Coesione Fabrizio Barca, Direttore del Ministero dell'Economia, il territorio Mediosangro Trigno, raggruppato in 33 comuni, ha espresso potenzialità e criticità attorno ai pilastri individuati nell'ambito della strategia nazionale per le zone interne. A Colle di Mezzo, sindaci, amministratori locali, operatori sanitari e del turismo, hanno esposto i progetti realizzati nei vari settori, sanità, scuola e mobilità. E' anche le attese di un territorio che soffre il dramma dello spopolamento e la mancanza di servizi essenziali. Tiziano Teti, presidente del GAL Maiella Verde, sindaco di Torricella Peligna. Noi stiamo facendo questa scommessa, ci piace molto la metodologia usata appunto dal Dipartimento guidata dall'ex Ministro Barca perché vuole una metodologia di condivisione, di condivisione dal basso, perché appunto la ricetta delle soluzioni non ce l'ha nessuno. E' necessario che le istituzioni, le altre istituzioni, si confrontano con i territori. I territori devono essere consapevoli che non possono soltanto chiedere fondi e senza sapere poi se questi fondi come vengono usati e se si raggiungono gli obiettivi. Noi ci teniamo particolarmente al raggiungimento degli obiettivi, altrimenti siamo vicini alla nostra fine. Durante il focus di Colle di Mezzo, il direttore Barca, profondo conoscitore del parco della Maiella, quale appassionato della montagna, fa una prima valutazione al Tg Max. Guardi, è evidente che esiste un divario fortissimo fra la potenzialità di attrazione turistica e quello che riesce effettivamente ad attrarre. Siamo su livelli di recettività minimi rispetto a quelli medi di aree che hanno questa offerta di paesaggio, di luoghi storici. Se ripartisse quello ripartirebbe la filiera agroalimentare, non perché i turisti consumerebbero tutto quello di cui c'è bisogno, ma perché sono loro il marketing principale dei prodotti agroalimentari in un territorio come questo. Non avviene, si tratta di capire perché, lo si sta facendo. Se quest'area verrà scelta dalla regione e dall'amministrazione centrale, queste saranno delle carte principali, giocando sulla filiera della conoscenza. Bisogna ritirare fuori, rifare emergere. Abbiamo sentito persone di valore, in alcuni casi anche gente che viene da fuori. Spesso abbiamo bisogno di qualcuno che arrivi da fuori per rifarci apprezzare quello su cui siamo seduti. È un territorio che ha sofferto meno di altri perché evidentemente ha la grande polmone delle aree industriali e valle, però non si può essere la monocultura industriale, non paga, bisogna saper vivere, non si può non vivere anche di quello che il territorio riesce a dare. Quindi il rilancio del turismo, facendo anche cose minimi, il parco della Maiella è in condizioni che sono per un turista penose, non offre una capacità di circolazione di sentilistica semplice. Quattro soldi, quattro soldi ben spesi, riapertura di rifugi e poi evidentemente interventi un pochino più complessi che riguardano banalmente ad esempio la mobilità dei turisti all'interno del territorio, che ci teniamo in modo particolare, perché è per questo che vogliamo condividiamo la vostra...